E adesso se cerca una bella partita di cerchi e distruggi Uh, ho già trovato, mi sa che mi è già finita Infatti, con la fortuna che abbiamo Bullets do less damage Vediamo un po' Ok, leggiamolo bene Bullets do less damage to enemy aircraft Senti che voce da coglione Eh, però, è già iniziato Vabbè, 1-0, dai 0-1 0-1 Ecco, 0-2 Ci pensiamo noi, Ale Adesso sì, si recupera grazie a noi Però siamo, vabbè, siamo 6 contro 5 No, siamo in 7 contro 5 Guarda bene 7 contro 5 Guarda Ecco gli errori della beta di Black Ops 3 Conta, cazzo Mamma mia 7 contro 5 Dai, dai Adesso che sono arrivati i due veterani di Call of Duty Si spacca tutto Si recupera, si rimonta e si vince la partita Vai, vai, prendogli la bomba No No Chi prende quello all'uno Che pugni, copuni Dentro l'acqua, dentro l'acqua Dai, dai, se va dentro l'acqua Se va Però qua dentro non c'è un cazzo, è vero? No No, è giusto per stare sotto copertura Merda Uh, già prima kill Livello 18 ragazzi Uh, 2 Uh, 3 Eh, la feed di Pride and Love Io ve l'ho detto ragazzi, ve l'ho detto È incazzato nero Ragazzi, guardiamo il replay Uh, così sale dall'acqua Si gira, ne vede un altro E gli spara Con la Con i riflessi di Gigi Buffon Anzi no Gigi Buffon è un po' vecchio, poverino Eh, poverino Se ricomincia dai Adesso voglio un show Di Jordan Charlie Con i riflessi del Rubinio Del Rubinio 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 Oh, oh, oh Attenzione Entro l'acqua, entro l'acqua Non so Ho paura Ok, io campero un attimo qua Perché succede Si deve un po' camperare ragazzi È la vita È la legge Di Chad Ok Va bene così Ok Se procede Se va avanti Dove è la tua fidale? Oh, oh E chat, bitch Pride and Love Fa vincere pure il secondo round Grazie alla sua kill finale Cambia tutto Cambia tutto Pride and Love Non ci siamo capiti Non ci siamo capiti Poi te potevi fargli qualcosa Dargli il pugno o no? No, no, è chat Ho fatto semplicemente Guarda le cervella Come escono Come escono È pronto il pranzo È pronto il pranzo? Ok Ok, se parte Se parte, se reparte Contro l'acqua I pugni Ok, ok Siamo due a due Abbiamo pareggiato i conti Contro questi pezzi di merda Hai lo guardo? Eh No, mi manca 25 punti Sono mo- No No, dove sono? Ah, ok Niente Pensavo di essere cappato giù Merda C'è uno sopra di noi, zio Boom non so come ho fatto a sopravvivere terza kill finale di pride and love sempre ragazzi 5-0 per lui vorrei ricordarti 7-5 vantaggio non si sa come non muoio e lo ammazzo io con un bel airshot 3-2 si ribalta la situazione ragazzi ancora un round e siamo alla vittoria usalo allo wav ragazzi si butta per aiutare i nemici ho la schermata di 3-2 3-2 ho tipo il risultato quanto siamo? 3-2 non mi va via merda sono morto non mi va via la schermata vai tranquillo anche con la schermata davanti non vedo niente noi vediamo jordan invece che vede ho un mirino sulla schermata uh e vinciamo questo non c'è neanche servito e se vince la partita grazie cioè non per vantarmi ma grazie a me con 3 kill finali di primi 3 round per pareggiare e per rimontare che cosa è successo? credo sono te ah anch'io sono la leader boot boh va bene così ragazzi finisce a 4-2 cerca di struggi pride and drop giornal charlie out 10-10 siamo pronti vero? siamo pronti siamo pronti per un'altra partita questa volta sulla mappa delle cascate del niagara o forse no sì sì no no cioè però non è la cascata sì eh beh spererei guarda che piccola che è la cascata hai ragione dai noi sempre la stessa arma cioè il ehm rorke 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 guarda è diventato un pugile il nostro è diventato rocky balboa scatenato ok si inizia un'altra partita di cerchi e di struggi speriamo di fare un bel risultato come la partita precedente oh non so dove sono i nemici uno è sotto l'acqua e l'ho ucciso e c'è la prima kill e poi c'è un altro sotto acqua e l'ho ucciso e c'è la seconda kill sempre sotto l'acqua merda sto more ha morito vai vai ci sono anch'io zio dietro di te bravo attento ce n'è uno recorro dietro merda mi ha laggato in un momento dove? eh mi è venuto da dietro merda che camperone stronzo bastardo dove ero? era dietro uno scatolonino e questo? ha vinto era da so cioè eravamo tre contro uno e ci ha ucciso tutte e tre aia questa è un po' una figura di merda ma ci riscatteremo si guarda questo qua si ma non so si a livello uno a livello uno non hai neanche sparato poverino dai se abbiamo fatto questo kill no e basta buono buono così dobbiamo portarla dobbiamo aiutare la nostra squadra a vincere dai siamo 5 contro 5 adesso cioè beh adesso da sempre facciamo contro 5 vediamo vediamo come iniziare qua ho una tattica diversa perché siamo sponati da dall'altra parte io non so dove cazzo andrà no 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 non di qua se parte se va a raggiungere Jordan Charlie sotto l'acqua in fondo al mar in fondo al mar tutto è potente dentro l'occidente in fondo al mar infia ok ok salto se sale uh drop shot c'è la bomba qua c'è la bomba ok sto ancora un po' sott'acqua perché mi rilassa i muscoli le terme ragazzi le terme fai da te sono su cross beauty black ops 3 quindi comprate il suo gioco se volete rilassare ups ho sbagliato no ho sbagliato uh quello lì va bene io non campio volevo campionare sulla bomba ma faccio il bravo uh un po' sbagliato neutralizzato merda l'ho vi cioè ho sentito che era qua ce ne sono due siamo due contro due si attenzione round decisivo due contro due concentrazione un po' di silenzio ci sarà in questo periodo di in questo periodo insomma sta piazzando su b vado su b no mi sa che se ne fregano su b non c'è nessuno ecco porca troia ok sono dentro l'acqua io arrivo dalle scale la tattica di jordan charlie provo a spingere spingo vai guarda se non a sinistra ecco si ce n'è una sinistra merda immortale no spiegami cazzo mi spieghi guarda guarda era è sovraccitato non poteva non fare la seconda kill guarda guarda attraverso la bomba lui ti ha ucciso e tu invece niente non è morto l'ingiustizia di colore dai dai ci riscatteremo anche a questa dai basta non perdere 4 a 0 uh ho il il tempest lì il fucile elettrico siamo pronti siamo pronti cioè non sta andando male la partita come kill però merda 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 io scappo è lì attento in fondo ah no ma non sei tu quello stronzo di dei pugni fino a farti morire che camper dove è sempre là no è là è là dentro è dentro che camper sulla bomba fa solo quello eh la vedi si sta per uccidere perchè lui tra l'altro stronzi fanculo pezzi di merda che è camperato come le finocchi primo round vinto finalmente anche se anche l'ultimo round dovevamo vincerlo però quello lì era overpower stronzo da dietro te lo inficco in culo come un istintore un istintore cazzo uh livello 11 del raid o back anche se usi adesso tempest o no perchè io voglio usare non so se usare l'arco o no eh non so cosa è meglio se no se lo uso l'arco io e io lo uso o no non so vedete io ho già ucciso uno no no ora non lo uso lo uso al prossimo round spavento ok dove sono eh infatti non c'è qua ho già guardato io non c'è nessuno su A ci saranno ci saranno su A uh ho visto uno però provo a prenderlo da dietro eccolo ce ne sono due merda si con la mia granata che prima di morire ho lasciato lì come ricordo io con la freccia 2 a 2 buon gioco di squadra guarda la grattina uh uh sui piedi sui piedi no ah sentex l'ho appiccicata non so bene anche come ho vestito sempre non mi ricordavo ormai non so più il cazzo di quello che uso 7-3 7-3 giordan ciali 5-3 le stesse morti ma io ho due uccisioni in più ma comunque è stato un buon gioco di squadra attenzione stiamo sul pareggio proviamo a vincerla attenzione ah io uso il tempest ecco infatti gioca gioca chi si vede la telecamera gioca pregateli rocci è là sopra ricarica attento che va dentro quello camperone mamma mia è morto è morto stranamente è morto ah anche senza la telecamera riusciamo a vincere facciamo da qua in poi non c'è più la telecamera scusatemi ma si è scaricata la batteria cioè non riuscire metterla in carica mentre eh no devo andare in culo ai lupi a prendere il caricatore quindi no buono buono 10-3 ragazzi che partitone dai così se va se va a vincere buono ok adesso io uso il tempest vai mettiti qua nel piccolo balcone col tempest e ci disolta ah si non c'è nessuno sì sì invece c'è qualcuno eh però non l'ho preso ok uno l'ho preso non l'ho preso non vorrei dire ma dimmi quanto Jordan Charlie spiegami Jordan Charlie conclude questa partita in una vittoria pazzesca che rimonta da 0 a 2 a 4 a 2 mamma mia mamma mia dove cazzo oddio in fin di vita Jordan Charlie riesce a uccidere la puntarella già da primo era in fin di vita perché ce n'era una altra alla grande che partitona 4 a 2 session destroy super partita guarda guarda eccoci primo seconda Jordan Charlie guarda come si cosa mangio oddio non lo so cosa mangio o mangio da solo cosa cosa mangio ok buona così queste partite si che danno uno spirito di giocare sempre più a COD ragazzi questo video si conclude qui con una bella vittoria buona così la prima ci si vede in un altro video sempre magari della beta di Black Ops 3 da da Jordan Charlie anzi no da Pride and Love è tutto beh anche da me spero non mi fai salutare giusto giusto anche da Jordan è tutto ci vediamo un prossimo video ragazzi bella bello bello Grazie a tutti.